perciò nuovità dal mondo pluto tv pluto tv che vi ricordo brevemente la piattaforma streaming disponibile su tutti gli smart tv di paramount completamente gratuita con la pubblicità e piano 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 questa piattaforma si sta facendo conoscere e si sta facendo spazio come giusto che sia dalle 25 luglio parte il canale tutto dedicato alla celebre serie anni 80 mcgyver quella vecchia non quella nuova mentre dal primo agosto parte il canale h24 tutto dedicato invece ad un'altra celebre serie settimo cielo quello del reverendo che ha la famiglia numerosa non sette figli che ne che ne combinano di tutti i colori e lui era sempre buono bravo fate sempre la cosa giusta mentre mentre i figli ne combinavano di cotta e di cruda e si quella lì con tantissime stagioni tanto se ne avete voglia se ne avete nostalgia cercate pluto tv sul vostro modello di smart tv e sintonizzatevi così scoprirete anche questa piattaforma che riserva gioie mentre parlando di netflix da settembre dal 21 settembre per la precisione arriva la docu serie vanna dedicata che racconterà la storia molto controversa di vanna marchi e la figlia stefania nobile una docu serie che penso farà molto discutere su netflix di GPS magari